ok ho vinto non lo so mi riferisco non siamo rimasti in due siamo due giorni oggi oggi ci sarà una pianta nuova ovvero dopo questo dopo questo abbiamo questo insieme qualcosa che lancia semi di fuoco durante la fila e moon al gel risparmiremo sul sul trucco in fiamma o mio dio immaginatevi la combo noi devo fare assolutamente secondo dila penso sia dila poi non lo so vediamo parte parte metto in primis questa girasole muro il congelamento no proprio no forse mettiamo questo che questo dai vedo che ci sono piante zombie non buoni cosa mettiamo qua magari non la usiamo tanto mettiamo già soli subito detto che basta basta ma si non lascia andiamo oggi siete molti in fuoco e è un boss è un boss ma fatto fuori altro presto c'è anche lì il muschio la aspetta un attimo ad un piano geniale non è andato bene il piano e non va bene neanche il lag no perché non è andato bene neanche questo questo qui la volano no abbiamo un problema si può abbassare ma si mettono no la webcam viene coperta stanno dicendo no ma non ci sono neanche uno questa pianta fa un pochino schifo è tempesta di sabbia ok prendi fai così vediamo il suo super mossa c'è una fila fa una fila di fuoco che uccide i zombie poteva andare molto meglio no dai dai no vabbè fallo fallo ok ottimo cioè non ottimo adesso non è servito niente si è servito sono in vantaggio io ottimo la mia tecnica sta funzionando non è vero perché questa cosa sta allora no non ho un altro potenziamento tipo no dai tu muori tanto che se ne frega di te dai un potenziamento dai me ne serve uno che se no perdo qua ecco ne uno tu passa qua anzi no non passare qua ci passa lui vai 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 si ultra forte ne ho altri due ottimo metto uno qua e l'altro l'altro non lo so un casino lagga tutto e non si capisce niente solo che sto sto vincendo penso proprio di sì altri due eh l'abbordaggio no l'abbordaggio in che è l'abbordaggio ah 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 uno e due vai super super mossa è una mossa mossa che è super super adesso qualcosa mi esplode ne sono sicuro no perché lo devi fare beh io lo faccio comunque vai veloce che ne arriverà la bomba poi ok qua sotto sarà il problema ecco tutti insieme vanno un po' di casino eh quanto manca 41 secondi in teoria ho bene metto un'altra senti ah che il coso qui funziona allora anche in questo no non passi qua tu eh ok sta funzionando la mia tattica la mia tattica la serie animato non vale sai che molto tempo scade però eh dai vai si morirete tutti troppo casino non sta allargando anche la fesca ma no allarga tutto il resto no veloce attaccate no perché metti il girasole ok vai l'ultima volta che ce la faccio fa di tutti quanti stavolta ok uno è partito partono gli altri dai 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 sì ma no ma lagga lei ha piante anche forti ma qualcuno ha vinto di quanto 702 a 57 odri basta già mi è esploso il gioco una volta basta aspetta i premi ce li accettiamo dacci i premi entro oggi entro oggi siamo pari con un altro vabbè non ci importa ciao 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 ciao